Fermo, signore. Sono Kaede, erede della stirpetta da Iori. Sapevo che i samurai erano tutti morti. Credevo foste un predone. Non sono un ladro. Cerco l'armatura del tuo antenato. Voi la meritate, Lord Sakai. Ma l'armatura non c'è più. E non c'è modo di ritrovarla? Una vecchia pergamena diceva... Tadaiori veglierà su Azamo. Per sempre. Credo sia un indizio per capire dov'è nascosta. L'armatura donò a Tadaiori grande velocità e mira infallibile. Indossala per difendere gli innocenti, come lui difese la baia di Azamo. Veglia sulla baia di Azamo. Sarà sulle rupi dietro la città.